oggi prepariamo la pinza tonda romana cosa utilizzeremo? utilizzeremo questo mix che mi ha inviato la ditta pinza for you il nuovo mix farine per tonda romana per fare una pinza fina e croccante e questa farina contiene farina di frumento zero e farina di faro integrale e farina di riso un ottimo mix per ottenere una pizza davvero fina e croccante e gli ingredienti che ci occorrono sono 100 grammi di questo mix e poi utilizzerò il lievito secco sempre pinza for you il nostro impasto ci servirà la farina di riso spolvero sempre pinza for you poi sale olio e acqua fredda non la trovate sulla condizione quindi andiamo a mettere nel nostro bottale 500 grammi di questo mix 3 grammi di lievito secco mescolo per 10 secondi velocità acqua torno il misurino e vado a pesare l'acqua fredda 300 grammi all'interno dell'acqua e sciolgo il sale nell'acqua 10 grammi lo andiamo a tatagiare qui sul piano di lavoro copriamo per un'ora a temperatura ambiente dopodichè il frigo per 24 ore facciamoli lievitare dalle 2 alle 4 ore Ho Gr SF Grazie per la visione Grazie per la visione